Signori, è con grande piacere che vi annuncio che dopo il grande successo dello scorso Natale abbiamo deciso di riaprire nuovamente, ma solo per alcuni giorni, lo store ufficiale del canale molti di voi lo conoscono, negli anni si sono susseguite tantissime maglie, magliette, felpe, tazze, cuscini e chi più ne ha più ne metta sono state un successo commerciale veramente incredibile voi le avete adorate, a noi è piaciuto tantissimo crearle e in molti ci hanno anche mandato delle foto bellissime questa volta non solo vi riproponiamo alcuni dei design che avete già visto ma abbiamo aggiunto alcuni prodotti unici che ribadisco saranno disponibili solo per alcuni giorni nelle immagini vedete ovviamente solo la colorazione bianca ma all'interno troverete non solo tanti formati ma anche tanti colori differenti allora partiamo direttamente dalle novità di questa campagna che ricordo durerà solo pochi giorni fino alla fine della prossima settimana lo scorso Natale vi ricorderete abbiamo proposto questa maglietta con le quattro casate che possono sembrare ispirate ad alcuni film o opere famose ma è una pura somiglianza ok vi è piaciuta talmente tanto che udite udite abbiamo deciso di farvi le magliette, le felpe chi più ne ha più ne metta con le singole casate partiamo ovviamente dal protagonista del canale quindi abbiamo il telon d'oro leggermente buggato perché se il telon non si bugga non è un telon gamer vi faccio vedere come funziona lo store perché hanno fatto alcuni cambiamenti peraltro i prodotti sono anche in sconto da questo menu potete scegliere le diverse tipologie abbiamo la maglietta unisex la maglietta scollo v unisex poi abbiamo la maglietta donna abbiamo la t-shirt maniche lunghe unisex per gli appassionati della felpa abbiamo la felpa con cappuccio unisex ed infine per i più piccini abbiamo anche la t-shirt bambino dal menu sotto potete anche selezionare il colore della vostra maglietta ce ne sono disponibili tantissimi a seconda ovviamente della tipologia di maglietta che voi stessi andate a scegliere ed infine non possiamo dimenticarci di selezionare anche la taglia corretta c'è la small, la medium, la large, la extra large e la extra extra large se non sapete c'è l'apposita guida alle taglie che vi specifica effettivamente tutte le misurazioni che dovrete fare per capire quale sia la taglia più adatta voi potete scegliere la quantità e infine fare l'ordine se volete avere maggiori informazioni sul prodotto c'è tutto quello che vi serve le magliette verranno spedite solo alla fine della campagna passiamo alla prossima, la seconda casata ovviamente è quella dell'assistente, sempre verde immancabile perché mi perseguita quella donna non riuscirò mai a liberarmene come ho detto anche in questo caso avete a disposizione tante tipologie di magliette e tantissimi colori non poteva mancare questa immagino la compreranno in molti il nostro franco rosso che come potete notare ha un'aria decisamente poco etero potrebbe sembrare poco etero ma franco è stata una personcina sempre molto particolare gli abbiamo dato anche un ottimo drink è vestito in maniera molto sobria ed elegante vi dà anche un bacino perché il franco vi ama a priori se il franco rosso vi ispira, se questa è la vostra casata beh ragazzuoli questa è la maglia o la felpa che fa per voi ed infine, immancabile abbiamo anche il gerbillo nero ovviamente dotato di forbici dalla punta arrotondata gerbillo edition perché lui non può effettivamente andare in giro senza guardatelo quanto è puccioso il mio piccolo ed erabile gerbillo sono sicuro che queste quattro magliette andranno decisamente a ruba e alla luce della serie di Resident Evil Village che abbiamo fatto recentemente vi proponiamo anche la maglietta dedicata per l'appunto alla suddetta serie come potete vedere ci sono tutti i cattivoni abbiamo la Dimitrescu con le tre figlie il Sior Heisenberg abbiamo messo anche Chris ovviamente arrabbiato con la vita guardate ci sono praticamente tutti anche in questo caso ci sono ovviamente diversi formati e diversi colori spero che l'acquisterete perché come ho detto la serie è andata veramente bene nei prossimi mesi vi proporremo anche altre magliette a tema ci sarà sicuramente qualcosa di Spider-Man adesso vediamo cosa inventarci ma andiamo avanti non possiamo dimenticarci i cuscini che già avevate visto a Natale questa volta sono disponibili non solo in colorazione bianca ma la Teasley adesso li vende anche direttamente in colori differenti qua sopra potete vedere tutte le varianti disponibili la taglia è di 40,6 x 40,6 cm se andiamo avanti ovviamente a questa coda potete vedere che è valida anche per il cuscino dell'assistente e non poteva mancare perché questa ce l'avete adorata anche il cuscino di dona un cuscino dona un soldo al tuo loan guardatelo io questa felpa l'ho adorata me la sono comprata io stesso perché è una delle magliette a mio avviso più belle ma perché no ti abbiamo fatto anche il cuscino perché noi ci teniamo anche in questo caso come ho detto potete scegliere varie colorazioni differenti e non poteva mancare ovviamente il cuscino quadrato con le quattro casate lo stesso design che avete visto a Natale questa volta in formato cuscinoso e ovviamente multicromatico se le vendite anche di questo cuscino andranno bene perché no vi proporremo altri quattro cuscini ognuno con una casata differente un po' come abbiamo fatto con le magliette e ovviamente come dicevo saranno anche disponibili le magliette che avete già trovato ancora a Natale e che sono andate decisamente a ruba come quella di dona un soldo al tuo loan ribadisco disponibile anche in diversi formati basta cliccare diversi colori e chi più ne ha più ne metta e non poteva mancare anche la maglietta con il logo molto gattoso dell'assistente anche questa devo dire che vi è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo vendute una marea proprio una quantità incredibile lo store non ne aveva abbastanza e potevamo farci mancare una delle magliette che c'è veramente dagli inizi guardatela è una delle mie preferite ne ho comprata anche una all'assistente perché è pucciosissima ok qua chiaramente un loan viene bullizzato ma vabbè dettagli facciamo finta di nulla poi c'è anche il piccolo adorabile gerbillo come faccio a non comprarne una pure io e anche questo nuovo design di maglietta che abbiamo proposto la scorsa volta è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di riproporvelo guardateli come sono pacifici e pucciosi sono pacifici e pucciosi solo durante la foto dopo hanno cominciato di nuovo a legnarsi come non ci fossero domani perché sapete che l'on e l'assistente ci hanno un rapporto un po' tumultuoso e lei vogliamo dimenticarci di lei la prima maglietta ufficiale peraltro rifatta in modo tale da migliorarla ancora rispetto allo stile iniziale questa ve l'abbiamo anche proposta tre anni fa mi pare la prima volta che abbiamo aperto lo store e da allora è una delle magliette più vendute e se ancora una volta avrà un successo veramente incredibile abbiamo deciso di farne una edizione 2.0 con grafica più avanzata che è una cosa veramente incredibile e strabiliente e siccome gerbillo ormai è diventato la mascotte del canale più che altro perché sono stato minacciato personalmente da gerbillo con le forbici della punta arrotondata non potevamo farvi mancare ovviamente la maglietta dedicata con il nostro puccioso draghetto marrone quanto mi piace gerbillo metti via le forbici ho detto che sei carino ok va tutto bene ed infine l'ultima maglietta è quella che ci raffigura il normale rapporto fra l'on e l'assistente lei sfinisce per rubargli qualcosa e lui piange in un angolino ferito non si vede in questa scena ma c'ha le forbici di gerbillo conficcate sulla schiena per ogni euro che raccoglieremo con questa maglietta lo devolveremo all'associazione aiuta il tuo amichevole l'on di quartiere e non dimentichiamoci ovviamente delle tazze questa ovviamente è basata sull'immagine che avete visto prima da una parte c'è l'on e dall'altra c'è l'assistente è disponibile in diversi formati questa ad esempio ha più colori che potete anche scegliere all'occorrenza come potete vedere oppure c'è anche in versione tazza bicolore in cui potete cambiare la colorazione interna e anche del manico della suddetta tazza poi c'è anche in versione tazza bicolore che dovrebbe essere ancora più grande di quelle precedenti e in alcuni casi potrete trovare la tazza smaltata come potete vedere ci sono due colorazioni di base è una tazzina un attimino più piccola da quello che vedo l'hanno aggiunta recentemente allo store di Tisley e poteva mancare la nostra cara buona vecchia tazza con il potere dell'amore e dell'amicizia signori una delle migliori serie del canale anche una delle più imbarazzanti con cavaliere assistente dell'ongamer in versione mai visto così poco etero siamo onesti è un'altra di quelle tazze che va sempre a ruba anche in questo caso disponibile ovviamente in diversi formati e ovviamente dato che Ark è stata una serie portante del canale abbiamo riproposto ovviamente la tazza di Ark con l'on che sfugge all'amichevole T-Rex di quartiere e l'immancabile scritta andrà tutto bene questa è perfetta per iniziare la giornata col piede sbagliato perché sentite questa cosa direttamente all'inizio avrete tante di quelle sfighe che metta basta buono signori non vi rubo altro tempo vi ricordo che ovviamente la campagna durerà solo alcuni giorni ma tranquilli che a seconda dell'esito di questa nuova campagna decideremo anche quali nuove magliette tazze o altri design proporvi adesso vediamo anche se fare le cover per i cellulari chi più ne ha più ne metta dipenderà tutto da come ci accordiamo con i disegnatori e via dicendo quindi io ragazzi vi lascio ovviamente il link in descrizione allo store nei commenti fateci sapere cosa ne pensate lasciate un bel mi piace se anche voi avete apprezzato questi nuovi design dello store del canale e spero proprio che vi divertirete tantissimo con tutti i gadget e le magliette che acquisterete sul nostro grande store ciao ciao